E' il momento di Angelo Maria Petroni, che oltre ad avere questo grosso vantaggio che ci offre di ogni volta, di essere quello che ci spiega meglio l'ABC del liberalismo, cioè partiamo dal concetto base, perché se uno non sa che cosa è la libertà è inutile che poi ci allambichiamo a fare tutti gli altri discorsi, il costituzionalismo, le cose, le tre rivoluzioni atlantiche, ma dobbiamo andare al dunque, la libertà di oggi, la libertà dei moderni, la libertà degli antichi, liberi di e liberi da, sono proprio l'ABC, ma se non sentite Petroni, comunque voi lo incontrerete essendo in centro, perché se voi andate a mangiare gelato a Via del Governo Vecchio, lui abbia a Via del Governo Vecchio e lavora a Piazza Navona, quindi lo vedete che oscilla, quindi è qua, è uno di casa, è uno di casa, è un vicino di casa, quindi è uno che non si pone il problema, Antonio Martino dice ci vuole la guida indiana per arrivare alla fondazione, lui viene dalla Cassia, ma lui viene dalla Cassia, insomma, hic sunt leones hanno scritto là sopra, è una cosa impossibile. Angelo, due micro, quale vuoi dimmi, se questo funziona questo, grazie Enrico, devo dire che la scuola di liberalismo ha un grande vantaggio, ti fa pensare che non invecchi mai, perché è la ripetizione della cosa. Allora, parto da una vecchia, celebre frase di Tocqueville, Alexis di Tocqueville, siamo la prima metà dell'Ottocento francese, ovviamente, Tocqueville fu intellettuale, fu anche ministro, che fu primo ministro brevemente, è l'autore della riforma costituzionale, della Costituzione oggi della Francia, venne ripresa, grande conoscitore dell'America, è uno dei personaggi da leggere, se uno è interessato al liberalismo, perché unisce l'aspetto teorico, quello filosofico, quello pratico. E Tocqueville, da un certo punto, ed era uno, ripeto, che ha fatto pure il ministro, quindi non era un intellettuale astratto, disse a un certo punto una frase, o scrisse, coloro che cercano nella libertà, qualcos'altro che non sia la libertà medesima, sono nati per essere schiavi e non per essere uomini liberi. Voi potete cercare la libertà per mille ragioni, gli economisti ti dicono, più sei libero e più cresci economicamente. Noi abbiamo tutti i rapporti che vengono fatti, pensiamo quello del Fraser Institute, che viene fatto Index Economic Freedom in the World, un altro che viene fatto dalla Wall Street Journal insieme alla Heritage Foundation, e regolarmente trovate in questi indici di libertà economica, come si calcola una libertà economica? Puoi portare o no controllo sulla valuta, sui cambi, il mercato del lavoro, quanto è libero, insomma una serie di parametri che classifichano i paesi come libertà economica, noi siamo sempre messi abbastanza male ovviamente, il primo è sempre Singapore o qualcosa del genere, l'ultimo varia dal Togo a qualche altra parte, anche poi i numeri, allora si dice, più un paese è libero più cresce economicamente, questa correlazione tra libertà economica e crescita, è una correlazione, non faccio un economista, ma è abbastanza ben stabilita, una volta era negata, ma fino a vent'anni fa e non di più, adesso non trovo più neanche un economista keynesian, babababarenzian, che non ti dica che la libertà economica porta alla crescita economica, ma è un dato acquisito, sembra non lo era, quando rimmo da Empoli, o la Cina la questione, beh c'è libertà economica non politica, e hai crescita lì, quando nel 78 si organizzò qui il convegno Le Vie della Libertà, dove venne più Kenan, questo è stato uno dei grandi momenti della fondazione Inami, atti a cura di Vegas, tu e... all'epoca nessuno ci credeva a questa cosa, anzi la crescita economica era legata sostanzialmente alla restrizione della libertà economica, dove avere una buona pianificazione, dove avere una buona quota dell'acciaio, anzi il problema della crescita economica era legato a più dirigismo, un buon dirigismo, per carità si diceva che ci vuole... Oggi la cosa è accettata, ecco, bene ma quello vedete, se uno dice io sono a favore della libertà economica, perché se ho più libertà economica ho più crescita, significa che non te ne frega nulla della libertà, ti interessa la crescita, è un problema diverso, è una questione... a qualcuno interessa qualcosa della medicina in quanto tale, ti interessa la salute, è buffo, esattamente come i soldi, a parte i paperon dei paperoni che gli piacciono i soldi, perché gli piacciono i soldi, ognuno vuole i soldi per avere qualcos'altro, i soldi sono un mezzo per avere una bella macchina, una bella casa, quello che dice vuoi gli soldi per i soldi, è una malattia mentale evidentemente, cioè colui a cui piacciono i soldi, se gli piacciono fisicamente si fa il deposito e ci nuota dentro, è come dire, è un gesto estetico, se gli piace avere il numero di conto corrente sempre più alto, vivendo da povero, lo mandi dallo psichiatra, dice il poveretto, quindi ci sono mezzi e fini, noi davanti al concetto di libertà, dobbiamo porci la domanda, la libertà è un mezzo o è un fine? Tocqueville diede una risposta brutale, coloro che cercano nella libertà, qualcos'altro che non sia la libertà medesima, ci cerco l'eguaglianza, ci cerco la ricchezza, ci cerco dentro l'uogale dignità, non sono destinati ad essere uomini liberi, era un po' ovviamente il punto di vista di un aristocratico francese la prima metà dell'Ottocento, cioè è un'etica di Herrschaft, che evidentemente non è particolarmente diffusa, è difficile pigliarci molti voti con quello, infatti il Partito Liberale non ce l'ha mai presidanti, non li prendiamoci chiari, però notate, è un punto vero quello di Tocqueville, cioè è un fine o è un mezzo? Uno dice è tutto a due, ma certo non è un problema, anch'io penso appartenendo alla scuola di Tocqueville per cui la libertà è un fine, sono anche contento che sia un mezzo, cioè sono contento del fatto che se c'è maggiore libertà, poi vedremo anche in cosa consiste, ma adesso partiamo dal quadro fuori, se c'è maggiore libertà sono anche più ricco, però devo ricordare quello che scrisse Hayek, un altro autore ben noto su questo tema, perché vedete, tra gli anni 50 e 60, diciamo tra il 58 e il 65 e il 66, poi la truffa venne fuori immediatamente, erano in parecchi economisti in Occidente a credere che l'Unione Sovietica stesse crescendo più rapidamente, geni come Samuelson, la mezza cara una, leonti, e tutti questi disgraziati che ti spiegavano che quei paesi vanno meglio di noi perché utilizzano pienamente la forza lavora, non come noi, disoccupazione, dieci che fanno lo stesso aereo, sprechi, eccetera, cioè c'è stato un periodo in cui, oggi sembra, poi ci si è resi conto, che in parte le statistiche dell'estero erano tutte finte, quindi si davano i numeri che non esistevano, e tante altre cose, ci si è resi conto che quello non era vero, ma domanda, se voi 1962 vi foste accorti che l'Unione Sovietica cresceva più degli Stati Uniti, avreste avuto una buona ragione per cambiare il sistema americano con quello sovietico, o no? Se avreste avuto una buona ragione per cambiarlo, avete sbagliato scuola, c'è andata a un'altra parte, c'è il pieno, cioè non ha senso, l'hanno diffuso altrove, non ti preoccupare, c'è la Leopolda, sono un po' misto adesso, ci stanno ancora, significa che non ve ne frega niente della libertà, cioè pensavate, voglio la libertà perché più libertà più sono ricco, se però un sistema sovietico, che tanto liberale non era evidentemente in nessun senso, mi dà più soldi, mi fa essere più ricco, scelgo quello lì, e giustamente all'epoca furono indiversi a dire, a commentare, dicendo a noi non ce ne frega nulla, posto pure che fosse a vero che il sistema sovietico permette maggiore ricchezza, noi vogliamo un sistema libero. Questo è il primo punto da porsi alla domanda. Se la libertà è un mezzo, allora si cominciano due cose, prima si cominciano i trade-off, quanta libertà è in cambio di quanto altro, è una commodity come le altre, secondariamente siamo sempre pronti, come dire, a rinunciare alla libertà, se arriva un signore che mi dimostra che un sistema che restringe la libertà è più efficiente, mi garantisce una certa cosa a cui tengo più della libertà. Se sono i soldi, perché sono un avaro, se mi garantisce più soldi, allora aboliamo la libertà. Se penso che l'eguaglianza sia più importante della libertà, se c'è un sistema che garantisce maggiore eguaglianza, allora sono disposto ad accettare la libertà. Maitron Friedman diceva, una famosa battuta, sul fatto che ci sono due tipi di atteggiamenti nei confronti della libertà, molto diffusi. Quello degli intellettuali, la vogliono per sé, ma non per gli altri. Io parlo, ma tu stai zitto. E gli imprenditori la vogliono per gli altri, ma non per sé. Gli altri devono essere in concorrenza e loro vogliono essere in monopolio. E questo purtroppo è la ragione per cui in genere gli imprenditori non sono grandi finanziatori di movimenti liberali. Se ne trovano pochi. Faccio parte degli imprenditori che hanno successo, vogliono la protezione del loro business, non vogliono la libertà, vogliono essere schiavi. Come dire, schiavi in buona maniera. L'importante è che gli altri non siano liberi di venire a fare concorrenza. Se voi avete dei dubbi, come mai tanti industriali o semitali o imprenditori hanno sempre questi grandi amori per i governi di sinistra, centrosinistra, da Prodi, a Renzi, da Lema, queste robe. andatevi a leggere Pareto cosa ha scritto su queste robe qui perché lo disse tanti anni fa Pareto, a me sono più di cento anni fa. Chi già sta dentro vuole una protezione di una rendita di posizione. Questo glielo dà un governo socialista, ma il socialismo centrosinistro è molto più un governo liberale. Il governo liberale metterebbe delle regole per cui loro sono soggetti alla concorrenza. invece in quell'altro modo dovranno pagare delle tasse più alte. Eh, però sono garantiti. Chi è che vuole le tasse alte? Ma le vogliono gli imprenditori che già stanno sul mercato, che già hanno le quote di mercato. Loro vogliono tasse alte e sovvenzioni. Se ti abbasso le tasse ti abbasso le sovvenzioni. Col cavolo. Se mi abbassi le tasse favorisci il newcomer perché se le tasse sui profitti di impresa sono al 70%, chi è che rischi a capitale per venirmi a fare concorrenza. Quindi, tasse molto alte scoraggiano quelli che entrano. Sovvenzioni mi li dai un po' di soldi dall'altra parte che ho pagato con le tasse. Questo è quello che vogliono gli industriali. Gli imprenditori hanno ragione perché i governi di centro-sinistra gli piacciono tantissimo e esattamente corrisponde al loro punto di vista. A noi liberali no, non ci piace questo qui. Comunque, primo punto, la libertà. Se la libertà non è un fine ma è un mezzo, è una cosa interessante ma è uno strumento come tanti da discutere. Il liberalismo per definizione pone la libertà come fine e non come mezzo. Se pensiamo che la libertà è soprattutto poi siamo sempre vicende umane quindi non voglio estremizzare ma se uno pensa che la libertà è essenzialmente un valore strumentale rispetto ad altre cose ha poco a che fare con il liberalismo. o se il liberalismo è questo non è così interessante c'è già il socialismo non è una socialdemocrazia. Mia vecchia polemica essendo ormai non più giovane con tanti esponenti liberali spesso un po' più vecchi di me che avevano una visione che hanno una visione diciamo così più di sinistra liberalismo sociale è sempre stata la seguente dicendo io non so se è giusta la mia visione liberale o la tua se il liberalismo consiste nel liberismo sostanzialmente insomma più lo stato di diritto perché nessun liberista pensa che il liberismo si tiene senza lo stato di diritto non so se ho più ragione io se il liberalismo non è ragione è il mio cioè il liberismo o se è il tuo liberalismo sociale quindi il liberismo più eguaglianza più so solo che se hai ragione tu non serve a niente ci sono già i partiti socialdemocratici infatti sono spariti i partiti liberali che hanno fatto questa roba qui perché giustamente se tanto tu diciamo sia il partito liberale italiano che ha messo il primo ministro della salute della sanità che ha implementato il servizio sanitario nazionale sistema sanitario nazionale quando l'Inghilterra lo stava abbandonando è chiaro che il partito liberale sparisce non c'è bisogno di te come dire non è ovvio io non so se ha ragione voglio dire io o qualcun altro degli amici liberali posso sottolineare so solo che se avete ragione voi non serviva a niente o non serviva a nulla non c'era i socialisti perché i socialisti già dagli anni 60 non erano mica più quelli che ti volevano la privatizzazione di tutto tranne dei barbieri come disse De Martino noi nazionalizzeremo tutto tranne i barbieri evidentemente ci teneva il suo barbiere non voleva andare un barbiere nazionalizzato dopo il napoletano il barbiere no comunque primo punto la libertà è un valore evidentemente è un valore morale certo che può essere anche uno strumento il liberalismo ha un lato dottrinario morale in senso buono ed ha un lato empirico che rappresentato soprattutto dalle scienze economiche è il discorso più liberi più si cresce ma vedete sostenere più liberi più si cresce più liberi maggiore la mobilità sociale questo è un altro dei temi evidentemente sono argomenti di tipo empirico bisogna dimostrarlo non è che dal concetto di libertà individuale segue che se maggiore la libertà individuale quindi saranno tutti più liberi quindi ci sarà maggiore mobilità sociale perché i liberali da questo punto di vista siamo sempre un po' a favore della mobilità sociale nel senso che le rendite di posizione non ci piacciono per definizione su questo c'è la differenza tra noi conservatori poi è vero se voi prendete la differenza tra un conservatore e un liberale posto che nessuno dei due sia socialista in senso tecnico che i conservatori piacciono le stratificazioni sociali ereditate a noi ci piacciono quelle soprattutto dovute al merito anche non negando l'eredità perché poi l'idea che il mondo ricomincia ogni volta in generazione è un'idiozia ma queste però sono argomentazioni di tipo pratico economico statistico per questo esistono gli scienziati di finanza esistono gli economisti esistono una serie di studiosi di scienze sociali è una delle ragioni per cui non ho mai trovato grande passione in Ayn Rand quel tipo di letture è bello gli altri queste robe non si deducono a priori non posso fare ragionamento a priori da questo da questo segue che non segue un cacchio logicamente non segue nulla segue per farlo seguire c'è uno schema d'argomentazione bisogna vedere i numeri i dati altrimenti non mi posso affermare quando poi vai a vedere i numeri confortano abbastanza tanto è vero che oggi sono tutti a favore della libertà economica anche quelli che odiano la libertà economica perché hanno capito che senza libertà economica non c'è crescita e se non c'è crescita non c'è neanche soldi per la redistribuzione che poi è vero fine dei socialisti evidentemente le società è ugualitaria o redistributive ma è una questione che non si risolve a priori cioè diamo all'ideologia alla morale lo spazio che deve avere diamo alle scienze empiriche lo spazio che devono avere le due si possono coordinare ma gli argomenti dell'uno non si spostano sull'altro non si spostano sull'altro che cos'è la libertà? se si è liberale si crede la libertà come fine si crede la libertà come valore non come solo strumento bene la parola libertà è una parola antica libertà ovviamente la radice è latina quella greca è l'euterea l'eutere rossa è libero la prima si dice che la prima rappresentazione grafica o la prima scrittura del termine libertà avvenga un 2000 anni antiavanti di Gesù Cristo prima di Gesù Cristo scrittura sumera è un cuneo cuneiforme che dice libertà dal pagare le tasse cioè l'essenzione dalle imposte è il primo concetto di libertà forse è tirato un po' per i capelli ma è vero che c'è questa questione quindi indipendentemente dal come dire dall'aspetto un po' commerciale ci permette di dare già un primo significato la libertà significa che su di noi su un individuo se è libero non sono esercitate delle costrizioni se tu sei un po' lì davanti un po' più giù un edificio non male non è solo un vento tu non sei libero perché su di te sono esercitate delle costrizioni cioè c'è uno che ti impedisce di uscire dice vorrei farmi una passeggiata purtroppo no vorrei fare una telefonata non proprio vorrei vedermi quindi prima definizione la libertà si parla del concetto di libertà negativa tecnicamente che però è un termine da usare solo dopo qualcuno ha letto perché altrimenti positivo e negativo sembra quella che fa schifo libertà negativa usatela nel senso della corrente elettrica polo negativo e polo positivo non significa che polo negativo sia peggiore si usa il termine libertà negativa come assenza di coercizione tu sei libero se nessuna coercizione viene esercitata su di te un signore che stia in mezzo al deserto del sahara senza manco una palma sopra è libero sta malissimo questo è un problema diverso può essere affamato può essere assetato ma non è non è libero è libero dopodiché preferisco stare in chiuso a regina cieli che lì ah questa è un'alternativa per vedarsi che la libertà non sia non è che la libertà sempre in tutte le condizioni è la cosa migliore forse rispetto alla sopravvivenza ognuno di noi darebbe via la libertà in cambio di qualcos'altro c'è sempre il vecchio detto o libertà o morte ma non è che sia stato sempre seguito da molti cioè quella poi non è una questione di ragione teorica è una questione di ragione pratica quindi è una questione di come ognuno di noi nel bilanciamento dei valori della sua vita e di tante cose mette insieme accetta certe cose insieme di altre in fondo da noi c'è una serie di contratti che sono contratti evidentemente che ci obbligano diventiamo dipendenti ti obblighi a avere certi doveri in cambio del fatto che ti danno certe cose affitti una casa ti obblighi a pagare ogni mese qualcosa in cambio di qualcosa o viceversa cioè noi restringiamo volontariamente nella nostra libertà almeno volontariamente quando è involontariamente e vabbè si chiama o il delinquente o il signor procuratore della repubblica la scelta volontariamente la restringiamo mille volte ad esempio stasera fatto lezione andato a una scuola superiore eccetera non c'ho mica tanta voglia di venire qui ero stanco ma come si fa a non andare non l'avrei mai fatto voglio dire ognuno di noi può fare dei tradoff continui ma io so benissimo che non confondo se sto a Regina Celi non posso uscire ma mi danno caviale champagne i vini piemontesi meravigliosi io sto bene ma non sono libero non è che posso dire come sono libero no guarda a te dicendo piuttosto che star fuori a fare il barbone a bere coca cola mi tengono qui dentro 15 giorni a caviale e champagne ok faccio il trade off non è mica un problema ma è inutile dire che se tu sei rinchiuso dentro Regina Celi eri più libero di prima non ha significato può essere riscaldato mangi bene mangi meglio quello che vuoi rispetto alla condizione di stare in mezzo alla strada e morire di fame puoi anche preferire essere libero di stare a Regina Celi se sei in mezzo al deserto del Zahara da solo sei perfettamente libero non è una grande condizione evidentemente esistenziale forse solo perché l'essere umano non ha solo il bisogno della libertà c'è anche altri bisogni evidentemente ma non la confondiamo uno di coloro che ha scritto più significativamente sul concerto della libertà nella seconda metà del novecento fu Isaiah Berlin che era professore ad Oxford e la prolusione ad Oxford del cinquattotto mi pare all'anno accademico di Oxford si chiama Two concepts of liberty due concetti di libertà dove proprio Berlin fa la differenza libertà positiva e libertà negativa la libertà negativa è la libertà liberale cioè la libertà come assenza di coercezione ti crea lo spazio per la tua vita per così dire che non significa che tu non ti vincoli ma volontariamente con altri secondo contratti non che sei vincolato perché nasci servo della gleba o perché hai fatto qualcosa e ti mettono evidentemente ristretto in un carcere mandamentale poi c'è il concetto di libertà positiva libertà positiva che Isaiah Berlin considera un concetto spurio che fondamentalmente è il concetto da un lato di benessere sono libero perché ho i soldi perché ho buone risorse due è un concetto di tipo egualitario sono libero perché sono uguale agli altri la tesi di Isaiah Berlin è che sono due concetti il concetto di libertà positiva e libertà negativa sono due concetti completamente separati e lui dice il contadino faceva l'esempio all'epoca il contadino egizio è molto più povero di un don di Oxford oggi non lo so dipende che il contadino quanto ha se potete un buon cotone guadagno il professore di Oxford ma il problema è che il contadino egizio non ha gli stessi gradi di libertà del professore di Oxford non perché sia più povero ma perché il sistema egizio politico sociale non dà il grado di libertà di cui il signore di Oxford ma non confondiamo le due cose quindi si può essere ricchi ma non liberi si può essere liberi ma non ricchi se vediamo le tragedie del novecento pensate quanti poveri ebrei 1937 38 a Berlino tanti erano ancora ricchi non erano liberi poi in genere quando succede che perdi la libertà perdi anche la ricchezza perché poi è successo quello che è successo ma un conto è la ricchezza la disponibilità di mezzi e un conto è la libertà certo ognuno di nuovo dovrebbe entrambe le cose questo è abbastanza vero rapporto della libertà con l'egualianza questo è uno dei punti di cui bisogna essere chiaro è chiaro scusate che nessuno vuole una libertà per pochi se pensate che la libertà come assenza di coercizione debba valere solo per pochi non sia in una visione liberale sia in una visione di tipo aristocratico coeritario in senso tecnico tipicamente c'è un filone non chiamerei di liberalismo aristocratico ma di aristocratico pensiero aristocratico in quanto tale che reputa che la libertà sia una facoltà da concedere solo ai migliori possono essere i migliori per nascita i migliori perché sono i più intelligenti le tecnocrazie europee di oggi pensano che se tu hai fatto l'enar sei libero di stroscan cosa del genere puoi fare quello che cacchio ti pare perché appartiene un'elita quindi non sei sottoposto agli altri il popolo normale invece ti metto regolamentazioni controlli ti dico dove devi andare a scuola ti dico cosa devi lo ha fatto l'enaro sei stato professore a Sion Spovia mettiamola così e col de minna ha fatto dove scavava quindi attenzione quando parlo di visione aristocratica che non intendo la visione aristocratica tradizionale dei lancellotti piuttosto che dei carandini stampare non il senso che appartiene ai nobili anche se una parte era così una volta sapete che ai nobili era concesso quasi sempre tra sette e ottocento le esenzioni rispetto all'index librorum proibitorum cioè se tu eri una persona importante ed eri interessato chiedevi al vescovo ti faceva leggere quei libri che quell'altro perché si reputava che chi apparteva a un'aristocrazia aveva degli strumenti come dire e quindi anche di quelli te ne potevi fidare e quindi gli potevi lasciare un maggior grado di libertà senza ai professori universitari no perché erano pericolosissime effettivamente è quello che succedeva quindi si parla di visione aristocratica in un'aristocrazia che non è necessariamente quella del sangue può essere quella delle tecnocrazie che è poi la stessa cosa solo i nuovi membri della BCE hanno diritto come dire a fare certe roba perché loro hanno cose una moralità un tipo di roba che gli altri non hanno e quindi a loro va concesso una libertà di un certo tipo John Mayer Keynes pensava la stessa cosa dall'altro tutto il gruppo di Bruce Murray cioè a noi appartengono delle cose speriamo non le conosca il popolo se no si è che cacchino non bene no voglio dire ero un personale un grande tecnocrata di quello che era cioè reputava Voltaire lo disse cinicamente io non sono non credo in Dio ma spero che il mio servo ci creda così non mi deruba cioè è la vecchia battuta lui Voltaire faceva riunire su se stesso io non credo in Dio lo spero se no poi dopo se nessuno crede in Dio mi rubano tutti c'è dell'utilità eh beh certo perché Voltaire che è intelligente che non è che amasse tanto la religione cristiana ma non è che non ne capisse l'utilità cioè quindi il cinismo come dire non credere a Dio aspetta a me perché io comunque lo rubo perché sono superiore ma il mio servo se non crede in Dio quello mi deruba non potendo quindi i liberali non credono alle visioni aristocratiche poi per carità ci sono stati liberali aristocratici Pareta è un esempio tante cose però su questo credo che almeno il liberalismo del novecento e penso anche figure molto diverse tipo metto Friedman o Hayek nessuno credesse nessuno abbia mai teorizzato che la libertà come assenza di coercizione almeno non debba essere distribuita ugualmente cioè nel senso che ognuno abbia diritto allo stesso grado di libertà come assenza di coercizione o da parte dei poteri dello Stato o da parte di poteri privati tipo la mafia in Sicilia su questo me la sentirei come dire qualcuno può anche dire no a partire da alcuni ad altri li vedo sostanzialmente fuori dal liberalismo moderno proprio non che non sia una posizione sostenibile ma francamente darò a tutti gli altri in questo il liberalismo è diventato democratico nel novecento non necessariamente nel senso che crede che la democrazia sia l'unico sistema compatibile con il liberalismo anche se io credo che in realtà sia così ma insomma questa è ancora una tese ulteriore ma nel senso che non trovo un autore liberale contemporaneo più che Enna e tutti gli altri che quando afferma il primato della libertà e anche della libertà liberale quindi primariamente assenza di coercizione poi vediamo se in una società c'è anche un grado di redistribuzione di ugualianza materiale ma è un problema diverso non voglia una libertà uguale da questo punto di vista non voglio finire come i miei amici milanesi ma una libertà negativa uguale per tutti ecco questo è c'è un latte qualitaristico del liberalismo del novecento che credo sia ormai stabilito e fa la differenza ancora rispetto al passato e curiosamente che fa dei liberali degli egualitaristi molto più forti di quanto siano molte ideologie tecnocratiche molte ideologie attualmente o pratiche più che ideologie che vedete soprattutto in Europa ma anche negli Stati Uniti fondamentalmente anche la upper class americana c'è tutto il filone se volete democratico dagli Obama dai Clinton in giù fondamentalmente praticano l'idea di due livelli di robe assolutamente cioè noi siamo benevoli aiutiamo il popolo ti diamo l'assistenza sanitaria però mica potrai credere veramente che a noi che apparteniamo a Boston Harvard parenti dei Kennedy Kerry tutti quanti abbiamo la stessa morale di quelli che stanno nel ghetto di Chicago non scherziamo però siamo così come Keynes degli anni 30 poi si riproduce ogni visione quindi la libertà liberale è la libertà negativa come assenza di coercizione questo è il punto fondamentale intorno a cui tutto ruota è una libertà uguale da questo senso di vista punto di vista nel senso che il liberalismo è individualistico se è individualista dà a ogni individuo lo stesso valore un liberalismo che non è individualistico che è basato sulla distinzione tra gli esseri umani in base a categorie di tipo o antropologico o di tipo storico o di tipo sociale si può avere qualche pezzo di liberalismo fondamentalmente il vecchio pensiero reazionario conservatore di mille tipi che c'è ancora in giro uno lo può mantenere e che non ci rende dei socialisti però perché per i socialisti la libertà è tale se e solo se è accompagnata a mezzi di sussistenza ricchezza distribuiti ugualmente a cosa serve essere libero se non hai di che mangiare forse non serve a niente però un conto essere libero è un conto mangiare cose diverse se ti servono caviale e champagne a regina c'è lì non sei libero ma è meglio che morire di fame forza è meglio essere ristretto in una prigione che morire di fame ma non posso confondere le due cose non posso confondere non c'è trade off tra i due questo chiudo che sto parlando la mezz'ora problema se fossero sullo stesso piano c'è un trade off vino e acqua sono sullo stesso piano dice no anche io non credo però c'è un trade off cosa vuoi c'è due dita di vino o 50 casse d'acqua io dico senti dammi 50 casse d'acqua perché due dita di vino ci sono buone però poi dopo che bevo allora c'è un trade off tra vino e acqua sono due cose che assolvono più o meno la stessa funzione una con più piacere l'altra con meno piacere però l'altra anche più piacere quando c'è molta sete d'estate preferisci l'acqua piuttosto che il vino quindi comunque c'è un trade off sicuramente e il prezzo stabilisce il trade off normalmente i prezzi di mercato ti dicono quant'è il trade off dice Antonio Martino il Monfortino il Barolo sono 695 euro quello che chiedeva il pagamento a te cioè c'è un trade off ci compri 695 bottiglie d'acqua da un euro questo è quello che il mercato reputa sia il trade off ma c'è un trade off sono due liquidi hanno tutta due la stessa cosa libertà ed eguaglianza o libertà e ricchezza o libertà e qualsiasi altro valore libertà e dignità libertà non hanno trade off sono due cose diverse sono due cose non è che fai il trading di uno per l'altro se credi che si possa fare trading dell'uno per l'altro per cui dammi il 100% di ricchezza e accetto lo 0% di libertà o facciamo 70-30 o 60-40 significa dal punto di vista liberale semplicemente che non sei liberale cioè è un'altra cosa cioè tu non stai significa che non ti interessa la libertà più di tanto ma la consideri uno dei beni tradable il principio liberale qual è poi? che è un principio morale è un principio filosofico è un principio politico dovrebbe essere quello di un partito liberale il problema è garantire la libertà non è mai un vincolo è sempre un'opportunità cioè io non penso che si possa rendere una società più ricca ristringendo la libertà cioè si possa rendere più ugualmente giusta o giustamente uguale perché poi ci sono anche le eguaglianze le eguaglianze ingiuste ovviamente cioè non è che gli altri valori che possono importare si ottengono restringendo la libertà se voi credete a un trade off tra eguaglianza e libertà allora questa non voglio società diseguali modello svedese il modello svedese il modello svedese non vuole che ci siano troppe disegualianze è un sistema scolastico formidabile che se trova un bambino molto intelligente gli dà le botte in testa e gli toglie l'insegnamento è fatto per reprimere le punte perché se è un bambino troppo intelligente in classe gli altri si sentono poco bravi quindi ha una magnifica produzione media con la repressione di quelli come dire devianti che rischiamo di noi le riprimiamo ugualmente perché la maestra non capisce che è bravo la scuola italiana ha bocciato per due volte Einstein le scuole elementari di Milano non ci dimentichiamo il padre di Einstein era un piccolo industriale falliva continuamente quando falliva cambiava paese a un certo punto andò a Milano e Pavia faceva più robe chimiche importava e Einstein ha fatto le scuole elementari a Milano venne bocciato un paio di volte e quando lasciò gli fece lo certificato dicendo perfettamente inadatto a qualsiasi lavoro intellettuale orientato ai lavori manuali cioè abbiamo rischiato di ammazzare Einstein poi il padre ha fatto fallimento anche in Italia scappò in Svizzera e si è salvato Einstein perché andò a scuola a Svizzera ma abbiamo fatto noi quelle robe lì quindi non è che abbiamo bisogno di programmarlo però il sistema svedese lo programma non lo so il sistema svizzero il sistema scusatemi svedese lo programma ma lo programma guardate è una logica difendibile cioè il problema ci interessa l'eguaglianza se uno va troppo su crea squilibri trade off quindi se si è liberali non si crede ai trade off cioè il valore della libertà non è mai una opposizione rispetto ad altri valori che sono occuparsi dei poveri che sono avere dei buoni servizi pubblici che sono ad avere altre cose se si crede che c'è un trade off io credo fondamentalmente non sia liberali sia social democratici allora va bene tipo bisogna restringere la libertà delle persone la libertà delle imprese delle persone cioè l'area di non interferenza perché se la lasci troppo allargare aumentano le diseguaglianze non funzionano più i tram a Roma le fognature si rompono non ci sono più soldi per i servizi pubblici eccetera se si pensa a quello legittimamente io credo si sia fuori dal liberalismo ma non dal punto di vista teorico perché poi teoricamente uno trova quello che gli pare che semplicemente si viene a coincidere col socialismo del ventesimo secolo e allora siccome i socialisti non hanno voluto cambiare nome significa che chi ha quella visione deve cambiare nome lui semplicemente o sparire come è successo al partito liberale italiano che non ha fatto altro che alla fine che inseguire quel tipo di modelli ci sono molte altre cose che si potrebbero dire ma non voglio ovviamente fare una lezione troppo accademica ci sono bibliografie di vario tipo però se posso darvi un consiglio se c'è un testo da leggere Isai a Berlin due concetti di libertà cioè concepts of liberty lo trovate anche più o meno piratato in rete credo nonostante Berlin è morto solo pochi anni fa il testo più importante da leggere su questo poi ci sono tante altre cose ma sulla distinzione poi c'è Tocqueville evidentemente e poi c'è Hayek e tante altre cose ma riflettete sempre su questo che disse Tocqueville fondamentalmente per voi la libertà è un fine o è un mezzo o concepite un trade off tra le libertà e altre cose se concepite un trade off non è che state sbagliando nessuno sbaglia e nessuno ha ragione avete una certa visione il liberalismo consiste nel credere che non c'è trade off tra libertà e altri valori e che in nessun caso aumentare la libertà delle persone creare istituzioni regole e condizioni che aumentano la libertà delle persone nel senso di assenza di coercizione genera problemi anzi genera non può che generare soluzioni se invece si reputa che aumentare la libertà delle persone può generare problemi si è dentro un pensiero diverso può essere socialista conservatore reazionario ma non è un pensiero da caratterizzare come liberale grazie grazie